mi sa che non ce la fai fa 5 km orari su si dai che riesce dai temerario lui dai quanto che non ho neanche il gancio di train dovrei tirarmi su comunque con un'altra mente non molla non molla non molla cazzo il giro è un tiro più grosso il 1910g l'ho proprio distrutto guarda come slitta guarda come slitta beh adesso è arrivato in salita è arrivato in dritto in all macra forest di questo e d'altro alle 3 di notte alle 3 di notte in live su twitch spettacolo perché alla fine alla fine vedi i tigli che vanno verso indietro perché non uscivo più da lì su quindi in fondo sei ovvio non sei così tutti i tigli che vanno verso indietro timber team i giacomelli ti fa una pipa te il timber team i giacomelli vero no? tutti i giorni in live su twitch ragazzi dai che vi aspettiamo porca eva venite a giocare con noi dalle 14 e 30 siamo in live tutti i giorni su twitch e connessione permettendo anche alla sera devo cambiare il nome della mt carico escezionale di legni no no questo va questo qua va a finire su youtube una clip che va su youtube questa oh è partito è partito mamma mia raga qua vado a 21 eh c'è ancora un altro po' di salita allora vai e portagli l'insegheria a beppe dai si si lui che glielo lascio là così proprio dico scaricatelo da sola ok dato che tu facevi il carico di un camion e li spostavi in un punto oddio vedo una bella salita qua eh lì hai come si dice hai il hai due carichi di ponze sicuramente se non quasi tre no ho preso due e richiamo anche questi eh sono no questi qua sono sono schianti eh non puoi tagliarli almeno che tu non compri il terreno sono proprio non sono tagliati sono proprio schianti dalla mappa questo è d'altro sul macra forestry mamma mia vi aspettiamo ragazzi grazie 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 a tutti.